Inizia febbraio ed inizia con il primo vero obbligo vaccinale anti-covid, quello traducibile in sanzioni pecuniarie al di là dell'accesso in luoghi che richiedano o meno il Green Pass. Da martedì 1 febbraio infatti il vaccino diventa obbligatorio per tutti i cittadini italiani con più di 50 anni, un obbligo deciso dal governo il 5 gennaio scorso. Ma sono trascorse tre settimane dall'emanazione del decreto e ancora ci sono ben 14.000 over 50 della provincia di Pesaro Urbino senza nemmeno la prima dose di vaccino. 14.000 persone che da oggi diventano a rischio multa. Cifra che si gonfia 53.000 considerando i Novax over 50 presenti nella regione Marche. Le sanzioni saranno di 100 euro e riguardano anche chi non ha completato il ciclo vaccinale con la seconda dose oppure non l'ha completato nei termini temporali previsti. Ad occuparsi delle multe saranno direttamente organi di vigilanza ministeriali che si baseranno sulle consultazioni degli elenchi dell'Asur. Una multa di 100 euro che potrebbe essere ad apripista a sanzioni ben più gravose, quelle che dal 15 febbraio prevedono che gli over 50 potranno recarsi sul posto di lavoro solo col Green Pass rafforzato. Tradotto, possono lavorare solo da vaccinati e qui le multe andranno dai 600 ai 1500 euro. Altre novità, da oggi il primo febbraio la durata del Green Pass passa da 9 a 6 mesi, mentre per quello che riguarda il Green Pass base ottenibile col semplice tampone negativo, da oggi diventa obbligatorio anche per accedere a banche, poste, centri commerciali o negozi quali ad esempio abbigliamento o librerie. Restano esentate dal Green Pass le attività commerciali ritenute di prima necessità dai generi alimentari alle farmacie fino ai rifornimenti carburante.